Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e bentornati al tutorial dedicato a Warhammer 2 a Total War. Prima di iniziare vi annuncio che nell'aria si vocifera di una nuova 3 DLC che stanno sviluppando, la Total War, e sembrerebbe che andranno a fare un piccolo rework sugli orchi. Queste per ora sono voci di coritoio, attualmente non si sa nulla di certo, quindi aspettiamo qualche info in più. Allora, riprendiamo il nostro tutorial, noi avevamo impostato nel secondo video una spiegazione sull'interfaccia di gioco, poi successivamente abbiamo fatto le prime conquiste e unificato la nostra provincia che stiamo andando a sviluppare con le strutture necessarie per far sì che la nostra crescita abbia un bel boost, come si dice, quindi cresca abbastanza velocemente. E nel mentre dobbiamo terminare, insomma, questa chiamiamo la sorta di ribellione, ok, di gli Elfi Oscuri che minacciano i nostri confini. Quindi il nostro esercito è pronto, possiamo avanzare più avanti con Tyrion, ok. Non dovremo avere grossi problemi nel tirare giù questo esercito, loro probabilmente ci andranno ad attaccare qui, forse la perderemo, ma poco male, non fa niente ragazzi. Ok, qua come strutture, ecco, potremo anche andare a costruire altri edifici per il momento, ma ha senso, visto che comunque tra due turni, probabilmente tre, perché prima vorrei tirar su questa torre qui, andremo ad appare a livello tre, quindi magari ci andremo a prendere, non so, anche l'ambasciata elfica, o i tunnel della città, o magari una di queste strutture, no, secondo me non ha senso. Quindi magari quando non sapete cosa costruire, perché effettivamente non vi serve nulla al momento, magari vi conviene aspettare se parliamo di pochi turni, ok. Parliamo di 15 turni, ragazzi, costruite e poi magari tirate giù la struttura, e tanto non è un problema, per tirar giù la struttura, vedete, basta che andate qui, ok, e demolisci, e ci rifornirà delle monete. Noi la struttura la paghiamo 900 monete e ce ne ridà 600, quindi tutto sommato è una spesa che si può fare, ma per tre turni nemmeno vale la pena. Quindi direi di passare il turno così, i riti attualmente non ci interessano, e speriamo che il nostro avversario, insomma, faccia il bravo e si ritiri. Ottimo, meno male, si è ritirato, così non ci ha dato grandi problemi. Assicurati che uno dei seguenti edifici sono stati costruiti la cittadina elfica, e adesso lo andiamo a fare, cerca tesoro in qualsiasi insediamento in rovina, e vabbè, poi qui magari lo andremo a completare questa missione. Ok, quattro turni al surplus, quindi intanto mi alzo la cittadina a livello 2, ok. Mi alzo anche il colonnato a livello 2, perché lo posso fare. Diciamo che ho sicuramente altri 5 turni, quindi magari tirarmi su un artigianato potrebbe darmi una mano, perché io vado a investire 675 per poi averne indietro circa un 60%. Ma sì, dai, possiamo anche pensare magari di potere, ma io mi direi se ho invece attualmente un potere. Preferisco perché ci mette un turno, mi dà un po' di velocità e quindi guadagno un turno, poi magari me lo butto giù quando non mi serve. Ok, qua siamo messi bene, io direi di attaccare... Ah, loro vanno a conquistare... Un assedio, ok. Come funziona questa schermata? Esattamente come, diciamo, la conquista normale di una qualsiasi cittadina, soltanto che vedete la guarnigione ovviamente più ampia, perché questa è... Continua l'assedio, scusate. Ok, perché questa è la capitale di questa nuova provincia. Etienne è la provincia, e mi auguro che abbia pronunciato bene, e Anger Isle è la capitale e quindi ovviamente ha una guarnigione maggiore rispetto a una città di provincia normale. Andiamo qua, vediamo che abbiamo 8 turni per... affinché poi loro praticamente iniziano a perdere unità a causa del cibo e della fame, e 14 turni alla totale resa. Abbiamo una forza lavoro totale che ci serve per costruire le macchine d'assedio. Vedete? Come io aumento le macchine d'assedio, come questa forza lavoro aumenta. Abbiamo poi un numero che ha la forza disponibile per turno, quindi noi potremo in realtà andare a costruire, ecco, in un turno, o meglio, potremo utilizzare i nostri 23 punti e il turno dopo avremo un più 6, quindi torneremo a 29 di forza lavoro totale. Che cosa sono queste due strutture? Queste qua sono delle macchine d'assedio che ci permettono di poter entrare più facilmente all'interno di una città. Le città, normalmente, quando si presenta questa schermata, hanno delle mura. Ovviamente su ogni muro ci sono torrette che possono sparare alle nostre truppe. Quindi noi dovremo arrivare alle mura, tirar giù le mura con o le nostre macchine d'assedio, quindi catapulte, razzi, se vogliamo parlare di scaven, e così via, oppure utilizzare le macchine d'assedio di default del gioco, che sono una riete per tirar giù le porte, e la torre d'assedio, che ci serve per scalare, praticamente, le mura in tranquillità. Mettiamo una nostra unità sulla torre d'assedio e la torre fa il suo lavoro. Possiamo anche utilizzare le scale, che ce l'hanno di default tutte le nostre unità. Quindi, ovviamente, prenderemo un po' di fuoco nemico, un po' tanto, diciamo che le scale, poi, il tempo che loro salgono, continuano ad essere bersagliati dalle unità nemiche, e si dispongono, diciamo, male, perché ovviamente devono sorprassare il corpo a corpo. Insomma, è, diciamo, più difficile le scale rispetto a una torre d'assedio. C'è da dire che una torre d'assedio costa anche due turni, ma ce ne dà due. Io, normalmente, quando faccio un assedio, mi tiro giù o queste strutture, oppure vado così. Ok? Quindi, per adesso vado così. Non posso fare un assalto frontale, perché, attualmente, potrei prendere qualche schiaffo. E quindi, continuo l'assedio, non ho fretta. Ok. Allora, qua abbiamo fatto la torre, l'abbiamo sistemata, quindi non abbiamo nessun rito che ci permetta di boostare un po' il danno, e quindi andiamo avanti. Ora, ovviamente, questo NPC andrà a conquistare il tempio. Eccolo là, e vabbè, pazienza. Ah, ci attaccano loro. Quindi, che cosa fanno quando loro ci attaccano? Escono dalla città e ingaggiano un combattimento in campo aperto. Quindi, noi potremo decidere di ritirarci. Quindi, ritirandoci, ovviamente, perderemo tutti le macchine da guerra che abbiamo costruito, i turni che loro hanno passato all'interno dell'accampamento. Quindi, diciamo, il locoramento lo andremo a perdere. Andiamo a perdere tutta una serie di fattori che riguardano l'assedio. Possiamo fare risoluzione automatica o ce la possiamo combattere. E noi, ragazzi, ce la combattiamo anche perché il numero, insomma, non era a nostro favore. Ora, speriamo che con un pochino di abilità, diciamo, riusciamo a portarci a casa la vittoria. Ovviamente, sarà una battaglia abbastanza semplice perché noi abbiamo un lord leggendario, che è Tyrion, loro no. Abbiamo anche la Fenice, che è un'unità di alto livello. Loro no. Quindi, nel momento in cui noi andiamo a utilizzare la Fenice a dovere, insomma, loro avranno un po' di problemi. Ok, qua come funziona? Abbiamo il vantaggio della collena e questo è positivo. Stando noi in difesa, perché sono loro che ci hanno attaccato, tecnicamente, allo scadere del tempo, noi, se questa barra pende a nostro favore, abbiamo vinto. E qui, invece, è il punto in cui arriveranno i rinforzi del nostro nemico. Quindi, se noi riusciamo a spaccare il fronte nemico prima che arrivino i rinforzi, a quel punto avremo un forte vantaggio. Ovviamente, ragazzi, è un po' una corsa contro il tempo, ma... Noi, comunque, ci proviamo, abbiamo il vantaggio della collina, adesso parliamo delle colline. E comunque dei vantaggi del terreno, ok? Questa volta preferisco schierarmi con una formazione diversa, ok? Quindi, le lance dietro e gli archi qua davanti, ok? E adesso vi spiego anche perché. Io ho bisogno di una bella linea. Ci mettiamo anche Tyrion questa volta. Ragazzi, cosa vogliamo fare per tenere allo stesso passo un gruppo di unità? Le mettiamo insieme, ok? Quello sono due unità differenti. Blocchiamo il gruppo, nel momento in cui noi, vedete, andiamo a spostare il nostro esercito, il gruppo rimarrà compatto, ok? E si muoverà con la stessa identica velocità. Quindi, se inseriamo dei cavalli all'interno di questa formazione, i cavalli si muoveranno alla stessa velocità dei fanti. Ora, purtroppo questa sta messa in una posizione molto scommoda, quindi direi che per adesso ti setappi qui e poi vai. La Fenice ce la mettiamo qua, pronta. Ok, avanziamo in velocità. Non mi sono mappato gli archi. Ok, loro ci attaccano. Dobbiamo prendere la collina prima di loro, ragazzi, assolutamente. Eh, qua andiamo male. Prendiamo la Fenice, la mandiamo sopra. Lui lo sganciamo. Ok, i nostri archi iniziano a sparare. Ce l'ha mappati sul 2, mannaggia. Va bene. Ok, li facciamo sparare sempre sugli archi. Loro devono arrivare ma non so se riescono. Ok, qua dobbiamo arrivare a fare la carica, ragazzi, perché la collina ci dà un vantaggio se... Se, metto in pausa un secondo, la collina, se noi scendiamo dalla collina in corsa abbiamo un vantaggio al bonus di carica, perché corriamo più velocemente. Al contrario, se saliamo la collina avremo uno svantaggio per quanto riguarda la velocità. Quindi caricare da sopra una collina è sempre meglio. Stesso discorso gli archi. Vedete, noi stiamo sparando non, diciamo, con una traiettoria dritta, ma stiamo sparando un pochino, ecco, a palombella. Ok, quindi le nostre frecce non saranno il massimo, però attualmente mi interessa vincere e poi schierarmi. Ce la dovrei fare, ho il numero dalla mia parte. Vedete come sono più lenti, c'è anche un po' di caos. Ok, iniziamo. Arriva la carica. La mia balestra è quasi arrivata in cima, ci mette un po'. Eh, lui deve andare qua. Ok. Andiamo a utilizzare la nostra felice per bombardare questa zona. Quindi, che cosa ho fatto, ragazzi? Ho impostato una traiettoria, ok, quindi destro, poi premo maiuscolo, e tenendo maiuscolo, vedete come mi cambia il cursore, io posso dare una serie di ordini a catena, ok? Quindi, quello che ho fatto io è semplicemente dargli l'ordine qui, ok? Dargli l'ordine qua sopra, quindi lei mi farà questa traiettoria, e nel momento in cui le passa, io, utilizzando la mia abilità, vado a bombardare direttamente sopra i miei avversari. Potrei anche fare questo, ragazzi, forse è anche meglio. Ok. Iniziamo, e bombardiamo. Qua mi faccio male da solo, ma non fa niente. Ok. E poi carichiamo con i nostri archi. Qua vai avanti, tu vai avanti. Ho lasciato Tyrion da solo contro un esercito, ma ce la dovrebbe fare. E comunque... Questi li devo mappare, perfetto. Ok, vi faccio fare un passetto, così mi avanzano. La balista è quasi arrivata, sì. Deve iniziare assolutamente... A sparare qua. Allora, i miei archi hanno preso vantaggio, e devono iniziare a far fuoco sulle truppe che si stanno avvicinando. In questo modo io mi tengo il vantaggio della collina. Mi lascio questa lancia qui. E mi sgancio Tyrion e lo mando contro l'altro Lord. Tanto ce la faccio, comunque un 1v1. Qua arriva una lancia, ragazzi. La lancia è pericolosissima per le nostre unità pesanti, per le nostre unità volanti. Quindi, la tiriamo giù. Allora, è arrivata anche la nostra balista. Quindi, col vantaggio dell'altezza, la balista farà parecchi danni. Scende la nostra unità di lanceri. Quindi, mandiamo il backup. E iniziamo a far fuoco qui. Mandiamo anche la nostra Fenice. Mo' ci sta sganciando Tyrion. Ok. Qua dovremmo fare bei danni, ragazzi, con la Fenice. Eh, hanno preso il bonus gli altri, gli F oscuri. Questo è un danno. La Fenice è qua. Questo è un bel danno, ragazzi. Allora, mi devo rimappare un attimino le cose. Scusate, ragazzi, ma... Ok. Ok. Il fronte non va proprio bene bene, ma noi abbiamo Tyrion ancora, che fa il suo lavoro. La Fenice deve andare via. Vinciamo qua. Ok, vinciamo qui e vinciamo qua. Ci serve il supporto degli archi. A breve, questo bonus degli archi oscuri finirà, che gli dà un forte aumento dei danni. Forse mi conviene sparare qui addirittura, ragazzi. Eh, Tyrion non mi è andato giù. Eh, non c'ho il supporto di un'altra di fanteria. Devo farlo ritirare. Forse mando un'unità di archi addosso. Ok, loro mi stanno tornando su. Eh, c'erano tante schegge. Eh, li devo mandare un'unità di arcieri a tankare un po' di danni. Ok, state tornando. Ok, loro sono tornati. La nostra balista sta facendo comunque i suoi danni. Ok, ok, loro sono in rotta. Non inseguiamo, ma mandiamo in rotta anche questi altri. Lui, loro li mandiamo al centro. Ok, dobbiamo vincere il combattimento alla distanza ora. Basta sparare anche sulle nostre truppe. Voi dovete tornare compatti. Ok, iniziamo a fare un po' di terrore con la nostra aquila. Anzi, anzi, anzi. Tiriamo giù il lord con l'aquila. Facciamo una bella carica sul lord. Ok, vanno in rotta. No, qui. Ok, dobbiamo tenere compatto il fronte. Quindi dobbiamo risistemare un po' il fronte per una futura carica e tankare un po' di frecce visto che ormai la nostra fanteria e il suo lavoro l'ha fatto. Mi sono perso qualcosa, sì. Questa schermata si apre con tab, ragazzi, eh. Ok, forse, forse, forse abbiamo vinto. Sì, ok, sono giù. Dobbiamo continuare a sparare, ragazzi. Perché dobbiamo continuare a sparare? Ok. Perché sparando, la nostra fenice però la sganciamo perché sennò fanno troppi danni. Queste unità poi torneranno dentro l'insediamento che in questo momento non si vede. No, non si vede? Eccolo. Ok, sarebbe questo l'insediamento che noi stiamo assediando. Ovviamente ha... No, non è questo qui? E niente, ragazzi, non si vede. Queste unità torneranno nel loro insediamento quindi noi dovremmo... diciamo, ottenerle il più basse possibile perché vedete quante unità abbiamo perso. Noi non abbiamo più una fanteria. Abbiamo veramente... Siamo veramente messi male, quindi... Diciamo che un pochino questo lo facciamo ma adesso va bene. Comunque abbiamo fatto abbastanza trucidume. Ok, ragazzi. Abbiamo vinto anche questa. Grazie al vantaggio dell'altezza. Ha la potenza dei nostri archi guardati danni. Tirion 94, 130 la nostra balista e circa una settantina di media sui nostri archi. Ok, qua abbiamo un 106. La nostra fanteria comunque dei danni li ha fatti ma per lo più ci ha tancato quello che ci sparavano i nostri avversari. Ora, cosa facciamo noi? Ci prendiamo forze da lavoro perché ci rientrica il 16% dell'unità e quindi questo ci dà un po' più di vantaggio per poter conquistare questo insediamento. Ok, abbiamo terminato una missione dobbiamo fare un patto di non-aggressione con loro Ok, quindi probabilmente ci servirà un pochino di influenza e magari lo vediamo nel prossimo episodio reclutare un numero di eroi Abbiamo preso un incantesimo Bello! Questo è veramente tanta roba, ragazzi. È veramente tanta roba Che ci dà? Che ci dà? Ah, però... Mannaggia, ci togliamo la pozione Beh, sì, ce la togliamo. Attualmente la pozione non ci interessa Abbiamo fatto un level up Possiamo sempre andare ad aumentare un po' di danno Magari il 3% dei danni o più possibilità Ma diciamo che l'attacco è molto alto Forse ci riprenderei questo Ok, vediamo come è messo adesso il nostro assedio, ragazzi Ancora vende un po' verso di loro Vedete, non è proprio convinta Forse ci conviene aspettare un paio di turni per avere le nostre torri d'assedio e poter pensare magari a fare l'assedio un po' Diciamo più pulito Vediamo qua che succede Ok, abbiamo costruito la struttura Sempre 4 turni Abbiamo però un nuovo slot E quindi lo andiamo ad aumentare Che ci mettiamo? Ci mettiamo... Sicuramente uno slot è riservato a questa struttura Quindi io vado a mettere un pochino di difese Visto che la mia città è una città costiera Potrebbe essere attaccata comunque da un momento all'altro Ok? Ho un po' paura, ragazzi Quindi preferisco magari mettermi delle difese Mi alzo a livello 2 il maniero Che poi quando avrò finito la crescita della pop Me lo vado a distruggere Aspettiamo un altro turno Diciamo che adesso la situazione purtroppo Loro che vogliono Trattato di pace Masa anche no Ciao Che trattato di sei matto Prima mi attacchi E poi vai trattato di pace Inizia il turno con 350 di frammenti Noi stiamo a 33 Ah però Ci dovremmo andare a prendere poi anche l'incudine Questa qui ci serve Poi ragazzi non vi preoccupate che di queste cose ne parliamo Altri tre turni Ok Andiamo di nuovo avanti ragazzi Dobbiamo aspettare la nostra La nostra macchina d'assedio Ok Loro se ne vanno Loro saranno difficili a tirar giù Saranno un po' difficili Perché comunque sono Sono un pochino avanti Allora Evento Rispetto per il protocollo Il re fenice La regina eterna Ricevuto un invito Bla 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 Che cosa ci prendiamo? Meno 10 di influenza Ma Più velocità Non lo possiamo fare Perché la nostra influenza È pari a 8 Più 25 di influenza E Meno 1500 di tesoreria Oppure Un pochino in meno Quindi più 10 Meno 750 Oppure Meno 5 Povolazione felice Io mi prendo l'influenza ragazzi Perché prima Ho ricevuto una missione Dove devo stringere Degli accordi commerciali Quindi Avere un pochino di influenza Da spendere Potrebbe darmi una mano Ok Vediamo come va Vedete il nostro assedio Adesso è leggermente più avanti Forse non si vede Ma poco poco Quindi Io potrei anche pensare questo Ragazzi Di Vabbè Fare continua l'assedio E Interrompere qui l'episodio Nel prossimo Ci vediamo bene Un assedio Come funziona E Vediamo anche magari Sviluppare un pochino l'odern E capiamo come ci conviene Muoverci nei turni successivi Quindi Io ragazzi Vi saluto Noi ci vediamo Al prossimo video Se i contenuti Vi sono piaciuti Iscrivetevi al canale E ovviamente ragazzi Per qualsiasi dubbio Per pressità Curiosità Commentati Cercherò di rispondermi Come posso E vi ricordo di spuntare La campanellina In alto a destra Per rimanere sempre aggiornati Sui futuri contenuti Ultimissima cosa Ragazzi E poi Vi abbandono In descrizione Sono presenti I link Alle mie pagine Cioè la pagina Discord Facebook E Twitter Dove Potremo anche magari Stare in più Stretto contatto Soprattutto su Discord E sono un pochino Più attivo Rispetto alle altre due pagine Ma comunque Insomma Avremo un punto Di riferimento Anche magari Per domande Una sorta di Question time Dove Potrete Insomma Usufruire tutti quanti Leggendo semplicemente La chat Oppure Entrando Più nello specifico E quindi magari Parlando anche voi Con altre persone Del gioco Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video